Olimpiadi, penso alla tangenziale di Tirano, i lavori però prevedono la fine nel 2027, ma le Olimpiadi sono nel 2026. Non so chi c'era prima di me, cosa ha fatto e perché l'ha fatto, però non sono abituato a cercare colpe in casa altrui, ho trovato 117 opere commissariate, sento i commissari tutti i giorni, ho già fatto numerose riunioni. Un ufficio olimpico aprirà anche finalmente a Milano, in regione Lombardia, come già c'è a Roma, a Cortina, a gennaio. È vero che alcune opere, se non facciamo miracoli, finiscono dopo. Il mio impegno è di trovare tutti i soldi necessari, tutti i tecni necessari e finirle il prima possibile. Così il ministro alle infrastrutture Salvini è intervenuto sulla questione delle opere olimpiche durante la visita al cantiere sulla Lecco Ballabio. Dopo aver incontrato il commissario straordinario alle otto infrastrutture strategiche dei giochi, amministratore delegato della società infrastrutture Milano Cortina, Luigi Valerio Sant'Andrea. La tangenziale di Tirano prevede un investimento da 136 milioni di euro per un tracciato che nell'asta principale ha una lunghezza complessiva di 6.600 metri circa. Ha inizio in corrispondenza della rotatoria di Villa di Tirano, dove si stacca dalla statale 38 esistente, spostandosi sull'altro versante della valle, percorrere poi sul fondo valle in sinistra orografica dell'Adda e attraverso una galleria artificiale e una naturale, giungere alla rotatoria del Campone, dove si ricongiunge alla statale 38 esistente. Grazie 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 a tutti